Benvenuti in questa nuova pausa caffè. Ve ho sfragassato le bollas su Instagram perché non sapevo cosa comprare tra i 100.000 telefoni, ma ho scelto l'iPhone 11 Pro. Ma prima... Sigla! Aldo Ricci presenta Pausa Caffè. Pausa Caffè. Girano i video di Aldo Ricci. Allora, com'è giusto che sia, vado a fare l'unboxing, che è sicuramente la cosa che vi interessa di più, e poi vi vado a spiegare perché ho fatto e ho avuto questa scelta. Quindi, innanzitutto vado a fare questo tipo di unboxing. Devo stare attento perché so, perché ho già visto gli altri miliardi di unboxing, che viene fatto... il telefono sta messo sopra, quindi vado a fare delicatamente... Ma che bello! Ma che bello dici perché è il Reslime? Aspetta, vado a tirare fuori. Vado, senti... Senti, al tatto, senti... Sembra la vetrata di cessi che c'era mia nonna a casa, senti che è satinata. Stessa cosa, vado, ragazzi, non... Vedi, poi uno dice... Vabbè, finisco di fare l'unboxing perché... Perché sennò poi dite che non vi faccio vedere tutto quello che c'è. Vabbè, i soliti libricini, qui adesini, ce ne può fregare di meno. Le solite cuffie, che sono quelle che però hanno il filo, quindi non ci può fregare nemmeno di questo. La novità nella scatola qual è? Che finalmente Apple ha messo un caricatore, degno di essere chiamato così. Questo ci permette di fare la ricarica fast, cioè in mezz'ora ricarichi il telefono per 50%. Per fare questo, ovviamente, hanno messo un cavo che è Lightning da una parte e USB-C dall'altra. Ovviamente io ho dovuto cercare il telefono in tutta Italia, però poi l'ho trovato da una parte sola, che però vi svelo dopo. Allora, andiamo per ordine. Io adesso non vi farò il classico video dove vi spiegherò che il telefono ha tre fotocamere, so fighe, granda... non ce ne può fregare di meno, lo comprate, lo provate, lo sperimentate. Io vi dico semplicemente perché ho scelto di prendere l'iPhone Pro, l'iPhone 11 Pro, non il Max tra l'altro, e non il Huawei P30 che avevo preso in considerazione, il OnePlus 7, il OnePlus 6 7 che avevo sempre preso in considerazione. Tutto questo perché? Perché lavorandoci con il telefono e sfruttando anche molto i social, tipo Instagram, sapevo che, anzi, mi sono informato sul fatto che Instagram, per esempio, fa un po' chiagare su Android. Un'altra cosa che so che, per esempio, fa proprio schifissimo, sono le app DJI, perché sono più ottimizzate per l'iPhone. Che ci posso fare? Non è che l'ho deciso io. Quindi, una serie di motivazioni, una di un'altra, e soprattutto, cioè, vi dico una cosa, io ho venduto il mio iPhone X 256 giga di due anni fa a 750 euro. Questo che significa? Che sì, è un telefono che costa, ma è un telefono che tiene il valore. Quindi, dopo due anni, ho praticamente pagato, ho preso la metà del valore di questo nuovo iPhone. Tra l'altro, per la prima volta, non ho preso la via di mezzo, quindi non ho preso l'S. Comunque, in tutto questo, io ho preso la versione 256 giga bianca. È fichissima questa cosa satinata. Ovviamente, adesso lo vedrete nelle storie, lo proverò, lo utilizzerò anche per fare vlog, perché la camera grandangolare, secondo me, è interessante anche per fare vlog. Ma, in tutto questo, devo ringraziare Telefonino 99, che me l'ha mandato. L'ho pagato, però me l'hanno mandato, perché ho chiamato tutta Italia. Nessuno aveva sti cazzo di iPhone disponibili. Gli unici sono stati loro, che me l'hanno mandato. Sono stati gentilissimi, velocissimi. E quindi ringrazio Telefonino 99, e, soprattutto, vi faccio vedere questo setup strano di Pausa Caffè. In realtà, sembrava... Vabbè, non sembrava lo studio, perché non stavo in studio. Però, ieri notte, mi è venuto in mente di fare standboxing, che è un po' strano. E quindi siamo per strada. Abbiamo sfruttato, penso, quasi 800-900 metri di strada. E Adriano sta alla camera, il maestro e Gianvito stanno facendo la porta-tavolino. E poi c'è Marco dietro, che trae in Adriano, per rimanere tutto. È tutto microfonato qua. Spero sia stata una cosa divertente, perché, insomma, non mandava di fare la Pausa Caffè figa, perché la Pausa Caffè sui telefoni è giusto che la faccia Galeazzi, e basta. E basta. Ci vediamo alla prossima Pausa Caffè. Fate i bravi. Io, da oggi, inizierò a usare l'iPhone 11 Pro. Ci vediamo alla prossima Pausa Caffè. Ciao. Girano i video di Aldo Ricci. Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti.